musica 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 ok ti ho portato l'ombrello ti ho portato l'ombrello musica musica oh grazie che ci fai qua fuori te lo ricordi quando mi hai detto che mi piaceva russi beh ho scoperto che avevi ragione davvero? si ma beh lei sta partendo e non potrò vederla mai più posso fare niente per aiutarti? ah io non credo cuccio e non puoi fare niente neanche tu io ho cannata in pieno una cosa proprio cioè lui parlava ancora e l'ho finita comunque vedevo ci dici se potete fare meglio grazie 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 ciao 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 che suggerimento leggere attentamente le avvertenze leggere attentamente le avvertenze non somministrare ai bambini al di sopra dei 99 anni il medicinale potrebbe provocare effetti collaterali indesiderati e anche gravi quali alle gai e spensinatezza in soggetti particolarmente sensibili risate a crepa pelle se i sintomi persistono consultate il teatro 8 ciao ciao